...dallo stallone numero 98, After Sunset W. Alla seconda posizione, lo stallone numero 103, S.G.Y. Estimate. E infine, alla prima posizione, per questa categoria stalloni, abbiamo lo stallone numero 102, Giant de Nautiak. ...premerà questa categoria, allora sia stato. Ah, non è buario, è diventato una società. ...and, ehm, well, actually, we give marks as judges for time, for handling, for all kind of criteria. Can you, a little bit, explain to the audience what it is all about for us, the typical radio mask?